Gloria, 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 in excelsis del Signore. Imitazione di Cristo, libro terzo, incomincio il libro della consolazione interiore, trentesimo capitolo. Chiedere aiuto a Dio con la fiducia di riottenere la grazia. Cristo Figlio, io sono il Signore che conforta nel giorno della tribolazione. Rivolgiti a me quando ti senti angosciato. Se il conforto celeste tarda a giungerti, è perché tu tardi a ricorrere alla preghiera. Prima di rivolgerti a me con tutto il cuore, infatti, vai in cerca di molti altri rimedi e consolazioni terrene. E tutto ciò ti è di scarsa utilità. Finché non riconosci che sono io la salvezza di quelli che sperano in me, e che all'infuori di me niente e nessuno può esserti d'aiuto nelle difficoltà, né esiste rimedio duraturo. Ora però che hai ripreso animo dopo la tempesta, rafforzati nella luce della mia misericordia, perché io ti sono vicino, dice il Signore, non solo per far tornare ogni cosa come era prima, ma per donare con grande abbondanza. C'è forse qualcosa di difficile per me? Sono forse simile a chi parla solamente, senza mai agire? Dov'è la tua fede? Sii saldo e perseverante. Sii forte e molto paziente. La consolazione ti giungerà al momento opportuno. Aspettami senza staccarti. Verrò e ti guarirò. Sei soltanto vittima di una tentazione, ed è una vana paura ad agitarti. Perché stai a pensare alle incertezze del futuro? Che cosa te ne viene se non tristezza su tristezza? Ogni giorno basta la sua pena. È del tutto inutile preoccuparsi o rallegrarsi per le cose future che forse non accadranno mai. Farsi ingannare da tali fantasticherie è umano ed è segno di puicollezza d'animo lasciarsi tascinare tanto facilmente dalle suggestioni del nemico. Egli non si cura se siano vera o falsa le cose con cui inganna e illude, se vince spingendo ad amare i beni terreni o a temere i rischi del futuro. Non sia dunque turbato il cuore né pieno di sgomento. Credi in me e confida nella mia misericordia. Quando tu pensi che io mi sia allontanato da te, spesso ti sono ancora più vicino. Quando pensi che tutto ormai si è perduto, spesso ti si presenta l'occasione di acquisire un maggior merito. Non devi pensare che tutto si è perduto semplicemente perché le cose non vanno secondo le previsioni. E non devi giudicare in base al tuo stato d'animo del momento, né lasciarti travolgere dalle avversità, da qualsiasi parte provengano, subendole come se non ci fossero vie d'uscita. Non credere che io ti abbia completamente abbandonato, se ogni tanto ti mando qualche tribolazione o ti privo di un'agoniata consolazione. Così si entra infatti nel Regno dei Cieli. Di sicuro è molto più utile per te e per tutti i miei servi incontrare avversità che mettano alla prova piuttosto che avere sempre tutto secondo i propri desideri. Io conosco l'intimità del cuore. Alla salute della tua anima giova a rimanere qualche volta senza la dolcezza della consolazione, perché nei momenti positivi tu non debba inorgoglirti e compiacerti di ciò che non sei. Io posso riprendermi ciò che ho donato e restituirlo quando mi sembra opportuno. Quello che io dono rimane sempre mio, perciò, se te lo tolgo, non tolgo qualcosa di tuo. Infatti è mio. Tutto il bene che viene dato è ogni dono perfetto. Non ti devi indignare né scoraggiare che ti mando qualche sofferenza o avversità. Posso sollevarti in un attimo e trasformare in gioia la tua pena. Quando agisco così nei tuoi confronti, sono un di meno giusto e degno di robe. Se hai una visione corretta, illuminata dalla luce della verità, non devi abbatterti eccessivamente a causa delle avversità. Anzi, devi essere contento e ringraziato. e per di più devi ritenere come tua unica vera gioia il fatto che io ti mandi tante sofferenze senza risparmiarti. Come il padre amato me, così io amo voi, disse ai miei cari discepoli. Non li mandai a godere dei piaceri terreni, ma a combattere grandi battaglie, non a raccogliere onori, ma disprezzo, non a distendersi nell'ozio, ma ad affaticarsi nelle opere, non a riposarsi, ma a produrre frutti abbondanti con la pazienza. Non dimenticare, figlio mio, queste parole. cosa che non ha Grazie a tutti.